Centro Civico di Gimarra a settembre è l'avvio dei lavori per realizzare nuovi spazi, tra questi una sala polivalente, ufficio e una terrazza coperta da 170 metri quadrati. Carobadanti, l'ACLI lancia l'allarme e chiede al governo di detrarre le spese dalle tasse per l'assistenza domiciliare. La Regione Marche festeggia il decennale della Fondazione Ferrovie dello Stato con la prossima riapertura della Ferrovia Sub Appennina Italica, la linea che collega Ancona con Fabriano, Sasso Ferrato e Pergola. Canone di locazione 2022 approvata a Fano la graduatoria definitiva, i beneficiari sono 555. Una fontana specchio con al centro il cascone chi omaggio a Valentino Rossi a Pesaro approvato il progetto esecutivo da 500 mila euro per piazzale d'annunzio, il cantiere ad aprile. Il defibrillatore e le manovre salva vita. Domani pomeriggio torna su Fano TV in salute. A ospiti il medico Antonio Dottori, ex direttore del pronto soccorso di Fano e Lorenzo Tricarico, formatore e docente di primo soccorso. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia, lo avete sentito nei nostri titoli. Nei prossimi mesi partiranno i lavori per realizzare il secondo piano del centro civico di Gimarra in via a cena, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Nel quartiere di Gimarra proseguono i lavori per la riqualificazione della struttura abbandonata da anni e che ben presto vedrà nuova luce nella sua interezza, sia nella parte verso mare acquisita all'inizio di gennaio 2022 che dalla parte di via cena dove il comune ha acquisito e inaugurato nel novembre 2021 gli spazi al piano terra dove al loro interno c'è il centro anziani e una sala polivalente entrambe per un totale di 500 metri quadri. Questa mattina all'interno del municipio fanese, sindaco, assessori, ufficio tecnico hanno presentato il nuovo intervento per quanto riguarda il secondo piano dell'edificio Latofano per un costo totale di 600 mila euro suddivisi in 450 mila con fondi del PNRR e 150 mila da parte del comune. Altri 500 metri quadri nel quale saranno realizzati un'aula studio per i ragazzi e i più giovani degli uffici per co-working, quindi per tutti quei giovani o meno giovani professionisti che hanno necessità di uno studio ma non possono permettersi il pagamento di uno studio privato, personale quindi potranno appoggiarsi lì. C'è poi un'area molto grande, polifunzionale, che verrà gestita per più funzionalità che possono essere compleanni, feste, piccole rappresentazioni teatrali, corsi di musica e sarà molto importante l'individuazione della gestione di questo spazio comunale perché la gestione dovrà essere individuata tramite manifestazioni di interesse pubblico a un soggetto associativo del terzo settore che dovrà poi creare essere da ponte tra il territorio e il comune per la gestione di tutti questi spazi. La struttura avrà un impianto fotovoltaico ed un risparmio energetico importante e sarà munita di ascensore per garantire la fruibilità di chiunque. Il progetto dovrà andare a gara per il mese di settembre mentre i lavori dovranno concludersi per la primavera del 2026. Con questo nuovo intervento aggiungiamo un altro tassello importante su quella che è la nostra filosofia, cioè la valorizzazione dei nostri quartieri. Noi pensiamo che la qualità della vita in una città si misura con i servizi, con gli spazi che noi creiamo. La scelta di creare delle hub, dei centri civici, fanno la differenza. Con questo centro è un centro che creerà opportunità, crea spazi, a cominciare dal quartiere ma poi sono a disposizione ovviamente per tutta la città. Sono spazi a 360 gradi per piccoli e per grandi, per varie discipline e quindi sono quelle strutture che aiutano a partecipare, che aiutano a organizzare, a dare anche sviluppo alle attività che ci possono essere in un quartiere. Rappresentano la vitalità. Il terremoto di magnitudo 4.3 che oggi pomeriggio ha interessato il perugino alle 16.05 con l'epicentro a Umbertide è stato avvertito fino a 200 km di distanza. Infatti in Toscana, nelle Marche e in Abruzzo, diverse persone hanno sentito le scosse. Il sisma, secondo quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è sviluppato a 5 km a destra di Umbertide e a 10 km di profondità. Non dovrebbe aver provocato danni e non si segnalano persone ferite, ma le verifiche sono ancora in corso. Ancora cronaca, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha intensificato i controlli per contrastare la commercializzazione abusiva di fiori in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'attività svolta dai finanzieri ha portato a sequestro di 267 composizioni floreali. I rametti di Mimosa erano ben confezionati e posti in vendita su bancarelle improvvisate ad un prezzo compreso tra i 4 e i 6 euro ciascuno. I due venditori ambulanti, fermati nelle vie del centro cittadino e in zona baraccola, sono risultati sprovvissi delle licenze previste dalla legge regionale. Entrambi, di origine italiana, oltre ad aver perso la merce e il profitto, che ne sarebbe derivato dalla vendita abusiva, circa 1.300 euro, si sono visti recapitare anche una multa da 5.000 euro. Cambiamo argomento. Questa mattina l'assessore regionale all'infrastruttore Francesco Baldelli ha eseguito un sopralluogo sui cantieri per il ripristino del sedime ferroviario in località Monte Rosso, stazione a Sassoferrato, danneggiato dall'alluvione del 15 settembre scorso. Sentiamo. Proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori per il ripristino della linea ferroviaria su Bappennina Italica, che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola. Una linea ferroviaria seriamente danneggiata durante l'alluvione del 15 settembre scorso. E proprio in questi giorni, dieci anni fa, nasceva Fondazione FS, un ente che valorizza l'enorme patrimonio culturale, storico, tecnico di ferrovie italiane. Un patrimonio che è una risorsa per tutta la nostra nazione, non solo dal punto di vista turistico, ma anche commerciale, che viene recuperato ripristinando treni e linee ferroviarie troppo spesso, troppo velocemente abbandonate. E allora il treno tornerà a sferraiare proprio quest'estate sulla linea subappennina italica, trasportando turisti, studenti, intere famiglie alla scoperta di territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino, alla ricerca e nella visita dei musei dei nostri meravigliosi borghi e per assaggiare le eccellenze enogastronomiche di questi territori, tutti da scoprire. E allora siamo orgogliosi di poter festeggiare il decennale di fondazioni ferrovie dello Stato con la riapertura della subappennina italica definita dal direttore ingegner Luigi Cantamessa una bella storia italiana. Perché non esiste futuro senza visione, non esiste futuro senza infrastrutture stradali e ferroviarie. Fanum non finisce mai di stupire. Ha esordito così il vice sindaco di Fano, Cristian Fanesi, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di via Vitruvio. Non sappiamo ancora che tipo di edificio fosse, ha precisato Fanesi sui social, ma il ritrovamento è di altissimo livello. Si tratta di marmi rari come pochi in Italia. Che sia la volta buona non lo sappiamo, ha commentato il vice sindaco, ce lo dirà la soprintendenza. Ma sicuramente, concluso, in questa città c'è ancora tanto da scoprire. Torniamo a parlare del bando affitti del comune di Fano, che prevede contributi alle famiglie in difficoltà. l'assessore Tinti ha comunicato che i beneficiari sono oltre 550. È stata approvata la graduatoria definitiva del bando 2022 per il sostegno al pagamento del canone di locazione, cioè il cosiddetto bando affitti. Sono 555 i beneficiari che riceveranno il contributo, suddivisi tra una fascia A, cioè coloro che hanno un ISEE, fino a poco più di 6.000 euro, e sono 347 questi beneficiari e che percepiranno fino a un massimo di 2.190 euro di contributo annuale. Per la fascia B, e cioè coloro che hanno un ISEE, fino a poco più di 12.000 euro, i nuclei familiari che beneficeranno sono 208. 68 sono le domande escluse per mancanza di requisiti o per mancata presentazione della documentazione. ed è importante questo perché la cifra totale che viene appunto erogata da parte del comune di Fano ammonta a 958.000 euro. È la cifra più alta, l'importo più alto di tutta la regione Marche. Questo grazie anche all'intervento importante che nel 2022, per il secondo anno consecutivo, ha fatto questo comune, implementando, cioè incrementando con risorse proprie fino a 170.000 euro le risorse che erano previste dal riparto da parte della regione del Fondo Nazionale, visto che c'è un meccanismo premiante per i cui comuni che appunto aggiungono risorse proprie. Questa è una scelta politica forte che questo comune ha fatto anche condivisa e apprezzata con le organizzazioni sindacali e l'abbiamo fatto perché il fenomeno, il problema del disagio abitativo è crescente e pesa su molte famiglie, su molti nuclei familiari. Questo chiaramente è un segnale importante perché davvero vogliamo sostenere con cifre anche significative quelle famiglie che hanno sempre più difficoltà per affrontare anche spese che sono appunto ricorrenti come quella dell'affitto. È uno degli interventi che fa parte di una serie di altri interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà. Tre ladri sono entrati a casa dell'onorevole Mirko Carloni. Oggi pomeriggio il deputato della Lega ha pubblicato questo video sui social scrivendo ieri sera questi tre signori si sono introdotti a casa mia a Fano per rubare tutti i regali di valore e alcuni oggetti personali. Nel frattempo mia moglie e mia figlia stavano rientrando poco dopo le 20 non per il valore materiale né per vendetta ha proseguito Carloni ma per la necessità di evitare che succeda continuamente e diventi normale farsi derubare in casa. Vorrei mostrare le immagini affinché qualcuno li riconosca e li segnali alle forze dell'ordine che desidero ringraziare di cuore per aver assistito i miei cari mentre ero a Roma e quindi si sono presi cura detto con una umanità non comune in particolare gli uomini del comandante Maximiliano Papali comandante della compagnia Carabinieri di Fano. A Pesaro invece da lunedì 13 marzo alle ore 13 di venerdì 21 aprile è possibile presentare domanda per ricevere gli assegni di cura per anziani non autosufficienti come spiegato da Luca Pandolfi presidente del comitato dei sindaci dell'ambito territoriale sociale 1 il bando si pone l'obiettivo di sostenere coloro che svolgono assistenza e loro cari e di ricordare l'urgenza di una normativa nazionale che colmi il ritardo legislativo i contributi previsti di 200 euro per 12 mensilità saranno assegnati a coloro che hanno attivato interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari anche non conviventi o mediante assistenti in possesso di regolare il contratto di lavoro anche sul nostro sito occhioallanotizia.it troverete tutte le informazioni inerenti ai requisiti richiesti e all'invio della domanda prendersi cura di un anziano in casa tramite una badante è diventato sempre più oneroso e specialmente dopo gli ultimi aumenti decretati dal governo molte famiglie sono in difficoltà a difesa di queste ultime è partita una iniziativa dell'ACLI che chiede di detrarre le spese dalle tasse Massimo Foghetti ha intervistato Maurizio Tommassini componente della direzione nazionale siamo alle prese con un vero e proprio problema sociale mentre da una parte le famiglie sono incentivate a prendersi cura dei propri anziani consentendo loro di continuare a vivere pur nella disabilità e in preda alle malattie croniche nel loro domicilio all'interno di un ambiente conosciuto e a contatto con i propri cari dall'altra questo servizio diventa sempre più oneroso fino a diventare un lusso e quindi insostenibile dai nuclei familiari meno ambienti quanto costa una badante? ora tanto tanto che risulta più conveniente la retta di una casa di riposo ma qui ovviamente le condizioni di vita nonostante la professionalità degli operatori sono diverse tra l'altro nelle case di riposo fanesi non sembra esserci posto e allora come fare? alcune famiglie sono costrette a far rinunciare a un loro componente a un posto di lavoro per prendersi cura dell'anziano ma ovviamente cambia la vita cambia il reddito cambia la libertà il tempo a disposizione cambiano gli impegni ed è l'amore quando è sentito che fa da consolazione e allora come fare? l'ACLI ha fatto una proposta ma la nostra proposta che tra l'altro è stata avanzata già è online la richiesta delle firme e quindi si può andare a firmare online sul sito che naturalmente raccoglie le firme sono già arrivati 50.000 firme e la nostra proposta è semplice bisogna dare uno sgravio fiscale che in qualche modo vada a sostenere il costo che è un costo ingente di 17.000 euro all'anno che le famiglie sostengono per il contratto di lavoro della lavoratrice domestica questo valere anche di quello che lo Stato fa per altri tipi di intervento come ad esempio per i medicinali per le protesi per tutto quello che serve per l'accudimento di anziani non autosufficienti avete coinvolto i parlamentari locali per cercare di ottenere una riforma in Parlamento? sì abbiamo coinvolto proprio questi giorni il senatore De Poli che naturalmente in questo momento è anche alle prese con la riforma della non autosufficienza che è in discussione al Senato e abbiamo avuto dal senatore De Poli che tra l'altro è stato un assessore al welfare della regione Veneto quindi a competenze abbiamo ottenuto che lo stesso senatore ha avanzato un'interrogazione al ministro Giorgetti proprio in funzione di questa nostra proposta condividendone l'obiettivo principale insomma da una parte le famiglie sono costrette a rinunciare al loro posto di lavoro perché non possono più permettersi il servizio di una badante dall'altra le badanti che perdono il posto di lavoro che sono a spasso ecco a questo punto il governo deve intervenire nuovamente secondo l'Agli ma noi diciamo che in Italia sono 800.000 diciamo quello che è l'Inps anche diciamo gli organismi scientifici che hanno fatto ricerche e le badanti che assistono in casa anziani non autosufficienti a Fano noi ne stimiamo 800 se noi mettiamo in campo questi numeri e naturalmente portiamo anche a valere di una mancata spesa del sistema sanitario che ha comunque l'obbligo di sostenere una parte della spesa di fatti nelle strutture residenziali il 50% delle rette è a carico della sanità noi pensiamo che si risparmia si va a vivere meglio gli anziani e si rende come dire le famiglie una cosa buona e giusta cioè un costo sopportabile torniamo a Pesaro dove il prossimo mese inizieranno i lavori di riqualificazione della piazza del Cascone di Valentino Rossi sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Lonigro Pesaro guarda al futuro e si appresta ad accogliere una nuova piazza l'assessore al fare Riccardo Pozzi ha presentato un progetto esecutivo da 500.000 euro per la riqualificazione di piazzale d'annunzio un luogo parecchio affollato nei mesi estivi è già famoso per via del casco di Valentino Rossi parliamo di un progetto importante ben accolto dalle attività commerciali che gravitano nella zona e soprattutto utile a migliorare il lato levante di Viale Trieste un primo vero grande intervento concreto sul lungomare che sarà poi oggetto anche di un di un bando di progettazione per riqualificare tutto l'intero lungomare ma che vede proprio partire con un intervento già quest'estate su piazza d'annunzio piazza d'annunzio è una piazza veramente sul mare dove in questi ultimi anni abbiamo cercato di rendere sempre più vivace e attrattivo in particolare tutto il lato della camminata dalla palla di pomodoro verso Fano verso Sud e che ha visto anche con il casco tanti curiosi vivere quel piazzale utilizzarlo per selfie e quindi diciamo immortalarsi di fronte a uno dei simboli dei più grandi campioni del mondo della storia del motociclismo il più grande campione del mondo della storia del motociclismo e invece con questo intervento andremo a realizzare una vera e propria riqualificazione con il verde la parte destinata al verde che passerà dal 2% attuale a quasi il 30% andremo a dare tanto spazio alle persone quindi andremo a ridisegnare di fatto quello che è il tracciato stradale cercando di privilegiare luoghi di aggregazione delle persone quindi con una piazza che potrà essere poi vissuta anche per momenti di socialità e quindi con un'attenzione come dicevo importante per il verde per un arredo urbano nuovo e quindi una riqualificazione che poi porterà ad avere una nuova piazza un nuovo luogo per gli eventi per le iniziative che si sviluppa poi a pochi passi dal mare l'inizio dei lavori è previsto ad aprile e dureranno circa tre mesi le operazioni che riguardano piazzale d'annunzio saranno divise in due step la prima fase sarà di tipo strutturale e la seconda completamente dedicata alla parte estetica dopo la pubblicazione dell'avviso hanno manifestato interesse a questo intervento circa 100 imprese oggi è andato in scena il sorteggio e solo otto ditte avranno accesso alla fase successiva quella che precede l'assegnazione e affidamento dei lavori la zona mare e non solo l'assessore al fare Riccardo Pozzi ha ricordato che sono in programma altri interventi importanti per la città di Pesaro sono davvero tanti i progetti che sono già in corso in queste in corso i cui lavori sono in corso in queste settimane a breve andremo a terminare il cantiere su Casa Rossini abbiamo un altro cantiere importantissimo strategico per la città per la viabilità della città che partirà proprio nelle prossime settimane che è quello del cavalcaferrovia quindi il cavalcaferrovia ed è sabato un intervento quello atteso da tanti pesaresi che poi porterà a riaprire la circolazione sulle quattro corsie si chiama maestri e maestre di buona finanza ed è il titolo dell'evento organizzato dalla banca di credito cooperativo di Fano dalla federazione regionale delle BCC e da Federcasse dedicato ai giovani soci delle BCC che questo fine settimana si riuniranno per due giornate di formazione l'obiettivo è quello di formare giovani capaci di trasmettere i valori e gli obiettivi della finanza responsabile cooperativa una sfida importante per questi ragazzi che lavoreranno presso la fabbrica urbana di Fano dove attraverso giochi e varie attività avranno modo di rafforzare le conoscenze sull'identità distintiva del credito cooperativo invece domani venerdì 10 marzo alle ore 21 nella sala del consiglio comunale di San Costanzo l'associazione Vittime Riunite d'Italia con il patrocinio dell'amministrazione comunale organizza un momento di riflessione sul tema delle pari opportunità e della violenza di genere con la presentazione del libro 12 ore per vivere o morire scritto dalla dottoressa Monica Di Monte psicologa e psicoterapeuta alla serata hanno già aderito numerose amministratrici locali del territorio che porteranno il loro prezioso contributo nel dibattito della serata sarà presente anche Anna Capponi agente di polizia locale vittima di molestie sul lavoro l'ex direttore del pronto soccorso di Fano Antonio Dottori e il formatore docente di primo soccorso Lorenzo Tricarico saranno gli ospiti della puntata di domani di E-Salute ci siamo siamo prontissimi siamo pronti per domani venerdì 10 marzo dalle ore 18 qua in diretta su Fano TV abbiamo preparato una grandissima puntata con un ospite Tommy dici tu di cosa tratteremo non avremo un solo ospite ma in realtà ne avremo due quindi possiamo già fare questa anticipazione parleremo di una tematica abbastanza pesante bella bella complessa perché parleremo delle manovre salvavita parleremo del defibrillatore di questo elettromedicale che ormai è diffuso nella comunità quindi anche le manovre per saperlo utilizzare e tutti quelli che sono anche i rischi legati all'arresto cardiaco improvviso quindi ci vediamo vendredì ci vediamo domani invece lunedì sera alle ore 21 torna in diretta Primo Cittadino e l'ospite sarà sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi tra poco trasmetteremo uno speciale di compartigianato imprese Ancona Pesero Urbino dedicato a una conferenza stampa intitolata Obiettivo Sostenibilità grazie per aver seguito questo appuntamento con l'informazione che torna il Tg domani sera alle 20 e 30 domani mattina alle 7 in diretta la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti buona serata a tutti e arrivederci a domani a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori